ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono Edoardo Agario e qui siamo sulla Charlie Charlie Challenge la challenge è a sorpresa che vi ho detta la faccia dopo la recensione del film squalo allora sistemiamo un po' queste due matite che io non ci credo poi la Charlie Challenge secondo me è una cavolata pazzesca vabbè comunque iniziamo vai Charlie, vuoi essere mio amico? Charlie, ci sei? Charlie, vuoi essere mio nemico? vediamo un po' Charlie, vai fa raga, ho tentato di soffiare per adesso però non ho soffiato adesso eh lo giuro non ho soffiato adesso ho tentato di soffiare in tutti i modi adesso oddio, mi sto prendendo un colpo, oddio non ho soffiato, ho provato a soffiare ma non ci sono riuscito appena ho smesso di soffiare mi hanno detto su no raga, non lo so eh Charlie, è vero che io non ho soffiato? Charlie che sta succedendo nel foglio? sta un po' sollevando il foglio, guardate qui dei bordi sta un po' sollevando, non so se avete visto Charlie ma te sei mio amico? Charlie, oh ci sei? questo video può bastare con una prova assai schiacciante si? no su serio, quando si è mossa non l'ho soffiato eh giuro, giuro su quello che volete giuro su quello che volete vabbè visto che questo minuto è durato due minuti e cinquantadue sì, farò un altro video adesso ciao ragazzi eee eee ciao 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 ciao